Allora, questo è un progetto regionale che nasce dalla collaborazione tra enti di ricerca, tra cui Linea che rappresento, e una start-up innovativa, quindi questo incontro virtuoso ha generato questo progetto. Che cosa è successo? Praticamente abbiamo analizzato la filiera lattiero-casearia che è un elemento importante del nostro Stato, quindi della nostra Italia, è una filiera importantissima dove la facciamo da padrona in tutto il mondo, non c'è quasi confronto con nessuno, però questa filiera genera tantissimi rifiuti, quindi questi rifiuti in qualche maniera devono essere gestiti. La gestione di questi rifiuti non è così semplice, non è sostenibile e siccome questi rifiuti generati da questo comparto sono altamente impattanti dal punto di vista ambientale, significa che sono disciplinati dalla legge, cioè la legge 152 del 2006, forse la conoscerete come decreto Ronchi, dove li catalogo come rifiuti speciali e non pericolosi. Per le aziende è un costo. Nella migliore delle ipotesi vanno a finire nelle porcilaie, quindi alimentano tutto un sistema legato all'alimentazione dei suini, nella peggiore dell'ipotesi viene scaricata nell'ambiente, quindi va in falda con un impatto dal punto di vista ambientale veramente devastante. Allora il problema che siamo posti è, ma questo rifiuto è davvero un rifiuto? E da qui l'abbiamo analizzato, sono anni che lavoriamo in questo settore, tra i vari settori copriamo le tre filiere agroalimentari del nostro scenario legato all'alimentazione e quindi ci siamo posti il problema di come recuperare. Recuperare che significa che ci siamo messi nell'ordine di recuperare, riusare, riutilizzare, riciclare. Quindi questa lettera magica diventa centrale, quindi nella centralità del nostro anche vivere quotidiano e quindi bisogna in qualche modo andare a analizzare effettivamente se questo davvero si tratta di un rifiuto oppure si tratta di qualcos'altro. Ci siamo messi quindi nell'ottica di andare a osservare quello che anche le linee guida dell'Unione Europea ci stanno dicendo, guardate che il nostro modello di sviluppo che ancora oggi abbiamo, che ci governa quindi il nostro sistema produttivo basato su un sistema lineare, quindi materie prime vengono trasformate, si generano dei prodotti, prodotti che alla fine ciclo generano dei rifiuti, dove vanno questi rifiuti in discarica e della situazione che ci troviamo ogni giorno. Il modello nuovo che si sta cercando di mettere su è un modello legato all'economia circolare, quindi l'elaborazione, la produzione genera rifiuti, questi rifiuti possono innescare nuovi modelli di sviluppo, nuovi modelli di sviluppo perché questo rifiuto diventa una materia prima, seconda, che genera altri processi produttivi. Allora, questa circolarità significa che alla fine del processo non è vero che tu non avrai comunque un rifiuto, però hai mitigato notevolmente l'impatto. Ecco, abbiamo analizzato questa filiera. In Italia, a livello quindi di tutti i sistemi produttivi di questa filiera, si generano 8 milioni di tonnellate, hanno di questo rifiuto, rifiuto che si chiama siero di latte. Quindi la lavorazione del latte significa che si fanno i formaggi, le proteine si trovano dentro, coagulano, quindi in maniera sintetica, il che precipitano queste proteine e da lì si ricavano i formaggi. Quello che rimane è una massa liquida che deve essere gestita. Questa massa liquida ancora contiene tante bellissime cose, è una miniera di molecole. Questa miniera di molecole le recuperiamo. Per fortuna oggi ci vengono incontro dei sistemi, quindi delle tecnologie, pronte per andare a recuperare queste biomolecole molto interessanti e da lì è nata l'idea di utilizzarle anche per generare un nuovo modello virtuoso. Fino ad oggi una strada seguita era quella di prendere questa matrice, si separano attraverso delle tecnologie a membrana i vari costituenti presenti in questo scarto, in questo refluo, in questo rifiuto. Da una parte si recuperano sieroproteine, quindi proteine nobili, queste proteine nobili, si va di nuovo dal caseificio e si dice, caro caseificio, utilizzarle, fanno un formaggio arricchito, fanno una nuova formulazione o vengono trasformate in biopeptidi. Biopeptidi significa piccole proteine che hanno praticamente un potere, quello di per esempio trasformate, avere un potere antiperdensivo o antimicrobico e anche lì quindi si apre un nuovo modello. Quindi è ritornato un pezzo. Altra cosa, un'altra molecola utile presente all'interno, il lattosio, che è uno zucchero. Sempre attraverso questi processi fermentativi ci sono dei batteri che non sono cattivi, questi fermentano, fino ad oggi l'abbiamo utilizzato per produrre biogas, questa volta ci sono messi però l'idea di andare a seguire un'altra strada. Questi batteri metabolizzano questo zucchero e sotto uno stato loro di stress lo immagazzinano come sostanza di riserva. Questa sostanza di riserva si chiama, non è una parolaccia, polidrossi alcanoati che non sono altro che bioplastiche. Noi le estraiamo e andiamo a costruire cose di questo genere. Quindi una bioplastica totalmente biodegradabile e compostabile. Ora da questo abbiamo creato tutta quanta la filiera legata alla circolarità e tutto quanto il meccanismo ritorna di nuovo al caseificio e al caseificio gli abbiamo costruito anche una vaschetta per metterci sopra i latticini che loro producono e gli diciamo caro caseificio dal tuo refolo abbiamo fatto questa roba qui, cosa ne pensi? Ci mette sopra la mozzarella, lui non ci crede, ma si può fare. Però tutto questo, preintesi, non è la cosa bellissima, ci abbiamo risolto il problema delle plastiche, no ci stiamo lavorando, le quantità generate non sono favolose chiaramente, è un processo che si sta mettendo su. Oggi si vede, è biodegradabile, è biobased, si sentono tutte queste bellissime parole, non è sempre così, biobased non significa biodegradabile, la matrice sì è naturale, è vero, ma molte volte ci sta una componente dietro che non è biodegradabile. Con cosa si producono le bioplastiche? Le bioplastiche hanno una derivazione naturale. Quindi coltivazioni, mais, barbio e bietole, canna da zucchero, si estraggono gli zuccheri presenti, fermentazione e quindi si ottengono bioplastiche. Quindi dal punto di vista commerciale le bioplastiche esistono, però hanno quella derivazione. E non è vero che dall'oggi al domani, sostituiamo, da oggi tutte ci svegliamo, bellissimo il mondo con le bioplastiche. Non è possibile farlo così, è una strada, la dobbiamo perseguire, sì, ma non è vero che le bioplastiche oggi hanno la capacità tale di sostituire le plastiche di origine fossile. siamo circondati, è impossibile, è impossibile. Quindi bisogna essere onesti con noi stessi, con tutti e dire sì, è vero, quella è la strada, però non è così semplice, sì, la perseguiamo, è vero, sì, anche i nostri modi di vivere, i nostri usi e costumi, sì, mitighiamo l'impatto, sì, però sostituirli totalmente non è possibile. E soprattutto questa strada ci porta a considerare una cosa, non vorremmo più vedere queste immagini chiaramente, quindi sì, seguiamo questa strada che ci porterà a mitigare l'impatto ambientale. Immagini di questo tipo le vediamo ogni giorno i pesci che confondono una plastica per una medusa e le bustine del tè che rilasciano microplastiche e quindi tutto questo chiaramente dal punto di vista, se vogliamo, ambientale non è poi così sostenibile. Quindi chiaramente il modo nostro di vivere deve in un certo senso andare a vedere le cose dal punto di vista della circolarità, cosa possiamo recuperare, cosa possiamo riusare, cosa possiamo riutilizzare. Queste sono le parole chiavi che dobbiamo giornalmente metabolizzare anche noi. Questo è quello che gira nel mondo, anche queste immagini non le vorremmo più vedere, chiaramente. Immagini di questo tipo significa che, come si diceva prima, oggi butti via un pezzo di plastica da una parte, te lo ritrovi comunque lì, che gira e rimane lì, non si decompone. Ora voi dite, ma queste come facciamo a sostituirle totalmente e dal punto di vista economico invece quanto impatta? Anche lì bisogna essere onesti con le cose. Allora, consideriamo questa bioplastica, i polidrossi alconeati, questi che stiamo analizzando adesso, si trovano, li potete acquistare, commercialmente esistono. Ad un'azienda che produce plastica dice, ma questo vassoio fatto così in bioplastica, me lo puoi produrre? Sì, te lo posso produrre. Ma quanto costa? 15 euro al chilo. Il polietilene, quello che circonda, quello che, diciamo, la plastica di origine fossile, che giornalmente noi utilizziamo, tocchiamo, trasformiamo, è quella che ci devasta dal punto di vista ambientale, ma che oggi ancora non ne possiamo fare a meno. Quanto costa? 1,50 euro. E lì crolla tutto. Crolla. Crolla tutto. Quindi, costi, benefici, anche lì si incontrano e deve uscire qualcosa. È vero, è una strada che necessariamente dobbiamo perseguire. Sì, la strada è quella la strada, però dire oggi, cambiamo dall'oggi al domani, non è possibile. E volevo lasciarvi, con questa non è un'offesa a tutti quanti voi, ma questo progetto, questa idea vuole essere soltanto un pungolo e quindi da lì vuole essere soltanto uno stimolo a prendere delle decisioni. Queste decisioni superano, dal basso, quindi delle spinte gentili che superano la razionalità umana. È bastato che nell'aeroporto di Amsterdam venisse messa quell'immagine di una mosca all'interno di un batter e che le cattive abitudini dei maschetti facessero crollare il costo delle pulizie del 20%. È bastata questa piccola immagine all'interno del batter che i costumi cattivi che i maschetti di solito fanno e quindi adottano è bastato di far diminuire del 20% il costo delle pulizie. Grazie. 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 Grazie.